Benvenuti al concerto inaugurale della terza edizione del Gamondium Music Festival, promosso dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Castellazzo Bormida, in collaborazione con il Comune Cittadino. La Chiesa della Confraternita di Sant'Antonio Abate, risalente alla metà del XVI secolo, sarà la splendida cornice dei tre incontri del Festival. Il concerto di inaugurazione ha come protagonisti i musicisti dell'ensemble Lorenzo Perosi, Claudio Merlo violoncello, Daniela De Micheli pianoforte, Marcello Bianchi violino. Trio miniature è il titolo del concerto proposto dall'ensemble, un omaggio alla poetica della forma breve tra 800 e 900, con danze ungheresi, umoresche, elegie, waltzer, serenate. L'ensemble Lorenzo Perosi racconterà le grandi emozioni racchiuse in piccole miniature musicali. A tutti un buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.